Ciao ragazzi, sono Ilaria. Perché studiare design a Uav? Perché Uav è un ambiente molto stimolante e al posto coi tempi. Mi ha permesso di sviluppare delle competenze che mi hanno fatto toccare con mano un mondo che mi è sempre molto interessato, appunto quello del design, e mi ha permesso di sviluppare una mia coscienza critica. Una competenza che ho acquisito in Uav, che penso di aver acquisito in Uav, è il fatto di saper lavorare in team. Non esiste la figura del designer che lavora da solo. Una delle motivazioni che mi ha spinto a scegliere quest'università è la loro politica delle classi poco affollate, che permette un rapporto più diretto con i professori rispetto ad altre grandi università. Il primo anno è incentrato sull'annullamento dei gap dovuto alle diverse formazioni degli studenti. Infatti è ricco di laboratori. Il progetto cui sono più legata è il progetto che ho sviluppato all'interno del laboratorio di design del prodotto del secondo anno, che mi ha permesso di tradurre in un oggetto parte dei miei ideali. In più, il fatto di vedere l'evoluzione da pensiero a carta oggetto fisico è stato molto stimolante. Un'attività svolta a Uav, alla quale sono molto legato, è stata la visita di una tipoteca durante il corso di tipografia del primo anno. Questa esperienza è stata molto importante per me, perché prima di quella visita non sapevo nulla dei caratteri mobili, non sapevo nulla della grafica, avendo fatto l'istituto tecnico e non l'istituto d'arte. Sono molto legato a questa esperienza perché prima di quel giorno volevo progettare artefatti fisici come sedie, mobili, arredamento, mentre da quel giorno la mia scelta è diventata il progetto grafico. Il corso che più mi è piaciuto è stato quello di storia degli interni, perché per me è essenziale per comprendere la giusta progettazione di uno spazio e anche perché ci è stato chiesto di creare una rivista di interni e questo ci ha permesso di entrare all'interno del mondo del design in modo più approfondito e di conoscere persone che ne fanno parte da più tempo. Perché studiare a Venezia? Perché Venezia è un ambiente unico, una fonte di ispirazione costante, una città unica al mondo che vale la pena vivere soprattutto da studenti. Soprattutto nel nostro ambito dove ci viene richiesto di osservare, essere curiosi, camminare lentamente anziché correre, Venezia ti fa rallentare. Già questo ti insegna a ragionare in maniera nuova e laterale perché vedi le cose semplicemente da un'altra prospettiva e questo si sposa per giunta con il tipo di insegnamento che già di suo viene dato in un corso di laurea come il nostro. Io credo che studiare a Venezia specialmente per una persona che è legata all'arte e alla bellezza sia davvero uno stimolo continuo perché Venezia è una città meravigliosa. Grazie a tutti.